Ora sta accadendo anche al nord questa specie di omertà e del vedere magari delle famiglie soprattutto in paesi non di grandi dimensioni legate alla mafia come le brave persone che fanno qualcosa per tutti, un concetto che di solito eravamo abituati a vedere magari nei paesi in meridione, al nord non immaginavamo, per quanto le infiltrazioni mafiose sono veramente tante, ci sono dei problemi, dei problemi un pochino ovunque anche nella mia città, ma in molte città del nord ci sono problemi della mafia che magari si manifesta in modo un pochino diverso, la mafia che è dietro gli appalti, quella che è al nord, magari non è nel spicciolo spaccio che viene lasciato, magari gestito dietro da loro, però lasciato agli extracomunitari, così anche la prostituzione.